Un ciclista di 65 anni, SRL su iniziale, è stato investito da una minicar all'altezza della rotatoria tra Via Levate e Via Gorizia-Udine. Il sinistro si è verificato intorno alle 7.15 di sabato 13 luglio. Nell'impatto l'uomo è stato prima disarcionato dalla sua bicicletta, cadendo sul parabrezza del quadricipio, e da qui sbalzato a terra, sbattendo sul ciglio in pieta del marciapiede. Le sue condizioni sono subito apparse gravi. Sul posto sono giunti celermente i sanitari con ambulanza automedica. Dopo averlo stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso il nosocomio cittadino, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Rilievi di legge da parte degli agenti della polizia locale, che indagano per risalire alle vere dinamiche dell'incidente.